Io non mi occupo di elezioni comunali perché il Presidente della Regione deve mantenere un profilo assolutamente basso in competizioni locali. Il mio movimento diventerà bellissimo, ha dato mandato ai segretari provinciali di lavorare per realizzare coalizioni di centrodestra dove questo è possibile, dove non è possibile ridurre al minimo il danno. Stiamo presentando i nostri candidati sindaci ma anche candidati in liste civiche. Io mi auguro che la competizione si svolga sul terreno del confronto per le cose da fare, non sugli apprezzamenti personali. E quindi spero che la buona politica prevalga sul cortile, sul cicaleccio, sullo scontro e sulle ingiurie personali. In provincia di Agrigento stiamo giocando una bella partita, a cominciare dal Comune Capoluogo. Io auguro una serena campagna elettorale a tutti e vinca il buonsenso e soprattutto il giudizio degli elettori che deve essere un giudizio autonomo e avulso da ogni spinta esterna. Per quanto riguarda l'immigrazione, dopo la sua blizza a Roma con Conte, all'Ambedusa qualcosina sembra essere cambiata, più navi e in Sicilia il Movimento 5 Stelle da più parti chiede le dimissioni alla Morgese. Noi abbiamo finalmente posto il tema della migrazione al Governo nazionale, lo abbiamo messo per certi versi con le spalle al muro, dopo dieci anni di silenzio, dopo aver subito per dieci anni scelte assolutamente irragionevoli e l'assenza di una seria strategia da parte dello Stato. Abbiamo chiesto alcune cose, ci hanno risposto con alcuni impegni che aspettiamo vengano mantenuti. Alcuni stanno per esserlo, intanto più navi per la quarantena, per non fare scendere i migranti dalle imbarcazioni e lo abbiamo ottenuto. maggiori misure economiche e provvedimenti di sostegno alle imprese per l'isola di Lampedusa e non soltanto per Lampedusa e finora le assicurazioni fornite sono insoddisfacenti. Debbono chiudere gli hotspot, debbono svuotarli perché sono assolutamente fuori legge e non è giusto che i migranti debbano essere tenuti in quelle squallide condizioni. Ancora questo non è stato fatto, vedremo nelle prossime ore e poi andremo avanti perché pretendiamo che il fenomeno migratorio sia affrontato da tutti gli Stati europei e non debba pesare soltanto sulla Sicilia e soltanto sull'Italia, ma poi significa sostanzialmente sulla nostra isola perché le altre regioni il fenomeno migratorio lo vivono attraverso i giornali in buona sostanza. Insomma noi siamo fermi su questo terreno, non indietreggiamo, abbiamo il diritto di farlo sul piano sanitario, sappiamo di essere assolutamente in regola, non ci facciamo illusione sul provvedimento del TAR di giorno 17 perché tutto è già scritto, il governo centrale ha organizzato le proprie armate, ma noi siciliani siamo abituati a guardare ben oltre e non ci rassegniamo facilmente. I dati di coronavirus in Sicilia la preoccupano? No, non mi preoccupano, mi occupano, ecco questo sì, occupano me, occupano l'assessore alla salute, come abbiamo fatto nei mesi terribili in cui stavamo a casa, dobbiamo essere molto attenti, serve maggiore responsabilità collettiva, non dobbiamo drammatizzare, e speriamo che il vaccino venga presto scoperto, però intanto le scuole si aprono con regole non molto chiare, quindi ci auguriamo che da Roma arrivino indirizzi e indicazioni molto più precise e al tempo stesso ognuno di noi deve sapersi salvaguardare, deve sapere salvaguardare anche la salute degli altri, ecco perché noi riteniamo che l'epidemia non debba essere un freno, ma debba essere l'occasione, soprattutto per le nostre imprese, per ripensare a un rilancio, per ripensare a un post-covid, a una stagione di rivincita e di riscossa. Per fare questo stiamo immaginando una programmazione con opere pubbliche strategiche, penso alle grandi e alle medie infrastrutture, ne parleremo qui nella nostra confession di Agrigento, il meeting come vedete ha dato ampio spazio ai settori produttivi, alle imprese, agli amministratori, ai giovani e questo era l'obiettivo che volevamo raggiungere.